Dal latte in polvere ai pennolini, dai prodotti alimentari ai buoni spesa, sono state 365 le famiglie in difficoltà che nel 2017 hanno sufruito dai servizi del sistema Inclusione Famiglie, un progetto portato avanti dalla Caritas Diocesana assieme al Comune di Arezzo. Questo sistema Inclusione Famiglie prevede una serie di servizi a favore delle famiglie residenti nel territorio del Comune di Arezzo. Andiamo dagli aiuti storici del latte pannolini, quindi ad intercettare dei bisogni familiari relativi ai propri figli nella fascia di età 030, per allargarsi poi a servizi come sostegno al reddito, interventi sulla casa, interventi a favore dei bisogni alimentari, sanitari e quanto vogliamo metterci. È importante questo connubio, questo lavoro sinergico con l'amministrazione comunale e con tutta una serie di altre professionalità del territorio, penso ad esempio ai medici pediatri, perché permette alle famiglie di stare in un meccanismo di inclusione sociale. E quindi di cittadinanza attiva, che è un po' quello che vogliamo. Il Comune, oltre a garantire la collaborazione continua del servizio sociale, ogni anno impegna per il progetto 40.000 euro. È una rete di supporto che cerca di non solo dare un contributo, che è già importante, ma di dare una vera e propria spinta per uscire dalla difficoltà. Il vero obiettivo è avere bisogno per il meno tempo possibile, non solo perché questo drena risorse, ma perché questo a volte è un elemento di dignità che chi sa di avere bisogno ha il dovere, il diritto di capire che ne può uscire e ce la può fare insieme a noi. Passaggio obbligato del percorso è il centro di ascolto diocesano, presso la sede della Caritas, in via Fonte Veneziana, aperto dal lunedì al venerdì. Qui le famiglie possono rivolgersi per essere eventualmente censite come in situazioni di disagio, sulla base dei dati e dei documenti forniti per poi beneficiare di uno dei più servizi del sistema inclusione famiglie. Quello che è di diritto deve essere dato per diritto. Per l'elmosina alle volte si corre il rischio, secondo me, di far continuare a elmosinare la gente. Noi bisogna dargli anche col centro d'ascolto, l'accoglienza e il contributo che si può dare per spese immediate. Noi soprattutto miriamo a vedere di ridare dignità a queste persone che sono nella sofferenza e nella povertà.